Buon pomeriggio dal Tigi Lazio, ben ritrovati. Il tragico rinvenimento in via dello scalo di San Lorenzo di un senza fissa dimora morto per arresto cardiaco dovuto al brusco calo delle temperature. Riaccende i riflettori sull'accoglienza dei senza tetto nella capitale. Viaggio del Tigi Lazio tra gli invisibili della nostra città, le prese con il freddo e l'indifferenza. Rosario Carello. Sono le 23, Stefania è un'operatrice della Caitas, è arrivata una segnalazione? Sì, una persona che dorme qui proprio sulla prenestina. Poricata sul marciapiede vicino ad un bar c'è una donna e sveglia, si è rannicchiata sotto un piumone colorato. Siamo della Caritas, volevamo sapere se le serviva qualcosa. La signora risponde a bassa voce, sto bene. Lasciamo una coperta vicino. Una coperta vicino, ok? Magari proviamo a ripassare una di queste sere. Ci spostiamo nella notte di Roma, che è tornata gelida. L'altra sera è morto un uomo, senza tetto. A San Lorenzo, a San Pietro, c'è Cristina. È rumena e fa la badante. Quando è senza lavoro, è per strada. Ce l'ho referenze, ce l'ho tutto. E dorme sempre qui, in questa zona vicino a San Pietro? Sì, perché sono un po' protetta dalla polizia e carriobinieri. Poi io così prego. È vicino a San Pietro? Sì, sì, bellissimo. Si volta, vede il cuore della cristianità e si rasserena, ma stasera c'è una bella notizia. Cristina, stasera c'è un posto in ostello, ti andrebbe di venire? Vi ringrazio tanto, mille centinaia di grazie. Vengo, vengo, con il mio cuore. Se Dio ne dica di questo, mi ha dato una mano. I volontari raccolgono tutto. Un veloce passaggio in auto e Cristina entra nel dormitorio della Caritas. Stanotte sarà al caldo. Un saluto, uno sguardo e poi pian piano arrivare a creare un rapporto con la persona, in modo che la persona possa fidarsi di qualcuno e poi possa in qualche modo essere riconosciuta come persona. Ma a Roma non ci sono letti per tutti, senza tetto. Hanno freddo, ma anche paura. Come dorme? Con il braccio, non stai lì così, come attaccavo. E c'è chi di notte viene e ruba? Sì, Roma, Roma. Sto tremendo perché fa freddo. Sto tremendo perché fa freddo, dice, è l'inverno.